50 in giri da pergolore, prima campana a meno 48, prima eliminazione a meno 47 ancora di meno 48, prossimo giro, prima eliminazione 4-3-1 per scorrezzate, 4-3-1 meno 48, prossimo giro eliminazione 9-3 1-3-1 percivare 6-4-3-2 per elli. eliminazione 121 tra le prime posizioni vai su Tommy e cammino vito 42 42 G eliminazione 3-2-3 eliminazione 378 1-4-3 eliminazione 37 3-3 37 8-8-8-8-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 1-6-2-8 1-6-2-8 1-6-3-8-2-8-1-3-8-1-3-3-4-0-1-4-1-3-0-1-4-1-3-5-0-1-2-3-0-3-0-1-4-1-5-5-0-0-2-0-2-0-1-2-0-4-1-3-0-2-0-1-4-1-2-0-3-0-3-0-3-0-3-0-1- squareded Illuminazione, 2-4-9 Campana numero 30 Campana numero 30 Grazie a tutti. Vai uomo! Vai! 2-1-2 2-1-2 Eliminato al giro precedente Prossimo passaggio all'eliminazione 5-1-2 5-1-2 Eliminato al giro precedente Prossimo passaggio all'eliminazione 5-2-1-2 Eliminato al giro precedente 23-1-2 Eliminato al giro precedente 10-1-2 Eliminato al giro precedente Vino Vini ha passato 4, 2, 7, 8 Illuminazione 2, 6, 1 Sempre fuori Campana di meno 18 Sempre fuori tranquillo L'eliminazione Rimani sempre fuori 4, 8 Vino 16 Eliminazione 300 Giovanni vai fuori Vino 14 3-2-2 ha morito Stai lì, stai lì regolare 5-8-6 Stai lì, stai lì regolare Andà, oh 10-4-0-1-2 Campanella numero 10 2-10 1-4-2-4 4-8-5-8 6-8-8 Vai, vai, vai fuori, vai fuori! 104 vai che ce ne siamo vai lesi campana 26 fuori fuori che c'è fuori 5 al pallone siamo a meno 4 al prossimo passaggio fuori 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 Complimenti!